Allarme e inquinamento per il fiume Liri. L'Arta sta effettuando delle analisi per capire cosa c'è dietro alla schiuma bianca apparsa, schiuma che è comparsa in un emissario del fiume Liri nel comune di Canistro, di cui la necessità di avviare le indagini d'accordo con i carabinieri forestali. Già sono stati effettuati dei prelievi per capire la sorgente di questo probabile inquinamento. Il fiume viene attentamente monitorato. Abbiamo immediatamente effettuato i prelievi lungo tutta l'asta fluviale, cercando anche di capire la provenienza di questa sostanza bianca che rendeva le acque del fiume schiumose e di un bianco intenso. Dal primo accertamento sembrerebbe, forse potrebbe essere, carbonato di calcio che viene utilizzato in molti cicli produttivi degli insediamenti della Marsica. Verificheremo con più certezza e sicurezza questa ipotesi. Quindi va individuata la sorgente per poter poi intervenire d'accordo tutto con i carabinieri forestali? Sì, la materia di indagine è rimesso alle forze dell'ordine e alla magistratura. Noi siamo un ente pubblico di controllo per l'accertamento tecnico-analitico e faremo la nostra parte, come sempre.